Ormai è un appuntamento irrinunciabile per tutti i collezionisti. Ad Arezzo Fiera è tornata la mostra del disco e del fumetto. Oltre 100 gli espositori presenti per soddisfare i tanti appassionati della nostra provincia e non solo. La mostra del fumetto, del disco, del DVD, quindi tutto il mondo del collezionismo che ruota attorno alla musica, ai fumetti che sono una parte importante della nostra vita. Siamo vicini al ventesimo appuntamento, abbiamo iniziato nel 1999, per i primi due anni solo con il disco. Poi fumetto e disco, CD, vinile, DVD e tutto insieme. Ogni anno ospitiamo degli autori, dei disegnatori che fanno dei piccoli workshop sulla loro arte, sui loro personaggi. Questo è un momento formativo, culturale che non lasciamo mai perché è un po' il clou della manifestazione. Ovviamente chi fa un giro tra gli stand si rende conto che comunque sono per tutto il giorno brulicanti di curiosità e di passione. Tutte le persone che entrano vorrebbero avere più ore per vedere un po' tutto. Io tra l'altro noto che oramai è diventata una vera mostra di settore perché più che i curiosi vengono gli appassionati autentici che spesso vengono la mattina e ci rimangono anche quasi tutto il giorno. Quindi girano tra gli stand per ore e ore perché anche volendo non è possibile vedere tutti i pezzi che ci sono.